Siamo tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come incrementare al meglio la velocità di download su Epic Games per quelli che hanno una connessione wifi tanto per arrangiarsi e altri invece che hanno una buona connessione wifi ma fanno lo stesso pochi megabyte al secondo per scaricare qualcosa su Epic Games. Quindi in questo caso se io adesso vado a scaricare un gioco, qualsiasi vado a scaricare questo qua, mi hanno appena potenziato la connessione wifi in casa e questa è la velocità dei download, 7-8 megabyte al secondo per ora. Però se io adesso vado a fare delle modifiche sull'impostazione di rete e internet, io ovviamente ho connesso anche il cavo Ethernet al mio PC al modem. Quindi se io adesso abilito questo e disabilito così la wifi, ora esce automaticamente qua sotto ed ecco la velocità, guardate un po' come sale, guardate, guardate, si 60 megabyte al secondo ma può andare anche oltre. Quindi se ti potenziano così la wifi in casa ma tu con il download fai ancora 6-7 o 10 megabyte al secondo, questo è il problema, tu devi usare il cavo LAN e risolvi così i tuoi problemi. Poi in questo caso se hai problemi con il cavo LAN c'è sulla scheda madre un driver, per esempio a me non me lo faceva connettere perché non funzionava. Quindi se tu vai sulla tua scheda madre, io vado sulla mia B450 Gaming Plus Max e vado su supporto e vado su driver LAN driver ed eccolo qua, Realtek PCI Ethernet Drivers. Quindi se andate a scaricare questo driver, installate e state certi che andrà sicuramente il cavo LAN, ci ho fatto anche altri tutorial in passato su come risolvere il problema del cavo LAN. Quindi la connessione wifi sale di parecchio, la velocità è molto molto alta, quindi in questo caso io adesso metto un attimo pausa a questo, vado su impostazione di rete e internet per potenziare di più la connessione, abbiamo i migliori server DNS da aggiungere sulla nostra connessione. Possiamo aggiungerli sia sulla wifi che sul cavo Ethernet. Quindi i migliori server DNS sono quelli di Cloudflare DNS, questi qua, che offrono così ottime prestazioni. E se vai a scrivere, se vai un attimo su wifi, vai su altre opzioni scheda, protocollo internet versione 4dcp slash ipv4, utilizzi i seguenti indirizzi server DNS e noi adesso andremo a utilizzare questo server DNS. Quindi è 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e facciamo ok. Lo stesso lo facciamo anche sul cavo Ethernet, quindi si spingerà anche oltre la velocità di connessione. Se in questo caso avete altri problemi, per esempio se vai su impostazioni e te li blocca a 0 KB al secondo e non sale più, quindi non riesci più a scaricare qualche gioco, mostra, gestisci velocità download. Se avete la spunta qua sopra, c'è scritto 0 ed ecco il problema. Quindi se in questo caso qua potete anche regolare la vostra velocità di connessione, io per esempio metto 30.000 KB ok. E se vado a scaricare così il gioco, me li blocca a 30 MB al secondo. Si ferma là, poi non sale più. Ok. Poi per altri problemi ancora, chiudete un attimo Epic Games e andiamo a cancellare i varie cache che tiene la sua cartella. Quindi se vai su tasto Start, più R, tasto Windows, apri così la schedina Esegui, oppure la vuoi scrivere qua sopra, Esegui, %AppData, % Scendi fino a giù, clicchiamo su AppData, Local, scendi fino a giù fino a trovare la cartella Epic Games, la cancelli, Epic Games Launcher. Certi volte anche le cache bloccano, cioè ostacolano così la velocità per la connessione di Epic Games, ovviamente la fa un po' sbilanciare, la fa sale, la fa scendere, oppure si blocca a zero. Quindi elimini così le cartelle delle cache Epic Games, chiudi qua, riapri Epic Games, ovviamente ti dirà di aggiungere di nuovo il tuo account Google, o il tuo account Epic Games. Eccolo qua, io accetto con Google, eccolo qua. In questo caso io ho risolto pure il mio problema della velocità di connessione, grazie anche a un cavo LAN lungo 15 metri, che non potevo collegare al PC perché stava dall'altra parte della stanza, quindi ho dovuto installare un impianto, attaccarli al muro questo cavo, 15 metri di cavo, 12,90 euro, fino a 1 gigabit. Ed è veramente un buon cavo, come avete visto la velocità di connessione fino a 60-70 megabyte al secondo di download. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come solvere i problemi e incrementare al meglio la velocità di download su Epic Games, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!